Bene carissimi amici, una buona serata a tutti voi, ben ritrovati qui sul mio canale YouTube. Siamo sempre nel nostro appuntamento consueto per andare a vedere cosa è successo nell'estrazione del 28 di marzo di martedì, penultima estrazione del mese. Quindi siamo nel nostro appuntamento di analisi. La prossima sarà l'ultima mensile, quella di giovedì 30 e vedremo cosa andrà ad accadere. Un mese di marzo particolare, un mese di marzo che doveva darci il 90 con più frequenza, così non è stato, perché comunque i segnali erano fortissimi. A questo punto mi viene da pensare che il mese di aprile deve essere fortissimo sul 90 per forza di cose. Quindi mi raccomando a seguirmi nel mese di aprile, perché i segnali anche in questo quale estrazionale sono fortissimi. Vediamo se già entro sabato, estrazione del primo aprile, questo 90 andrà a sbloccarsi e secondo me porterà una grande frequenza, quindi uscirà su diverse ruote, uscirà di continuo. Quindi molta attenzione. Intanto le ruote del mio 90 segreto rimangono confermate fino all'estrazione del primo aprile, Cagliari, Firenze e Roma, che sono tre ruote micidiali. Infatti questa sera notiamo sulla ruota di Cagliari una bella formazione di tre numeretti, 3,8 e 4. Tra l'altro 3,8 è un ambo diametrale in decina unito. Quando esce questa condizione porta il 90. E abbiamo anche il 66, il gemello, diagonale con l'88 di Bari. Anche qui grandi segnali per il 90. La ruota di Roma porta la distanza 2,15, 17 e sulla ruota di Firenze abbiamo l'ambo di distanza 1,51, 52, molto importante per il 90. E la doppia cadenza 8, 38,58. Quindi abbiamo dei bei segnali. Quindi Cagliari, Firenze e Roma sono le mie ruote preferite, con Bari a seguire. Perché Bari, questa si rapporta il 60 in terza, e questo è molto importante, accompagnato dall'88, che è un altro segnalatore. E abbiamo questa formazione tra le ruote di Bari Cagliari, con questi numeretti. Il doppio 8 isotopo, se facciamo 8 per 8, 64, e lo sommiamo a 3,4 avvicinati, quindi 64 più 34 fa proprio 8. Ok? Quindi cosa andiamo a notare? Intanto se sommiamo 8,8, 16 e 3 più 4,7 otteniamo il 23. Questo 23 io ve lo do come ambata, perché è un'ambata molto forte. Questo 23 lo possiamo giocare proprio in seconda posizione, dove è uscito l'8, sulle ruote di Bari Cagliari. Quindi segnatevi questo 23. E' una formazione molto bella, una formazione a t, la possiamo chiamare, che porterà il 90. Perché questa è una formazione di numeretti molto bella. Se moltiplichiamo un diagonale, 3 per 8, 24, 8 per 4, 32, otteniamo il 45 di figura 9. E questo è anche un altro bel segnale. Ma se sommiamo 8 più 3, 11 in diagonale, 8 più 4, 12, otteniamo di nuovo il 23. Quindi attenzione a questa ambata 23, perché è un'ambata molto interessante sulle ruote di Bari Cagliari. Lo mettiamo in seconda posizione. Quindi una bella formazione. Notiamo sulla ruota nazionale l'89, che porta il 90. Notiamo sulla ruota di Venezia, oltre alla somma 90, 84, 6. L'84, che è proprio la spia, che ce lo conferma Venezia-Milano. Quindi, anche qui, altri segnalatori. La ruota di Napoli, la ruota di Palermo, portano il doppio 9. Ok? E Palermo porta il 20, che è un'altra spia. Napoli porta la distanza 1, 9 e 10, con l'86. Altri segnalatori del 90. Palermo, 48, porta il 90. Il 9 e il 20. Altri segnalatori. Quindi un altro ruolo estrazionale che ci dà tanti, tanti segnali. Per quanto riguarda questo 90. Che deve, per forza di cose, arrivare alla grande dal mese di aprile. Io spero già dalla prossima estrazione, ma il mese di aprile è importantissimo. Per quello che è accaduto nel mese di marzo, il mese di aprile è importantissimo. Quindi, chi saprà avere costanza e fiducia nei metodi o nel mio 90 segreto, andrà certamente a vincere. Perché, intanto, vediamo cosa succede in questi ultimi due colpi per le ruote di Cagliari-Firenze-Roma. Perché sono tre ruote bellissime per il 90. Quindi, ci potrebbe essere un colpo di coda in questi ultimi due colpi. Speriamo che arrivi l'ambosecco. Ma attenzione al mese di aprile, perché sarà molto importante. Notiamo su Milano proprio la figura 9. Milano-Napoli, 63-9, quindi la doppia figura 9. E quindi anche qui è molto interessante. Bari-Firenze, in diagonale, portano somma 90 di zerati, 60-30. Due ruote molto forti. Poi abbiamo Genova-Milano, questo doppio gemello, 44-22. Anche un bel segnalatore. Il 9 in terza di Palermo, molto bello. Palermo che attende il 90 da parecchio, doveva già essere sortito. Perché è una ruota che ha sempre portato una bella frequenza. Ma ancora non l'abbiamo visto. Vedremo cosa accadrà. In diagonale con Roma abbiamo 4 e 9, ambo diametrali in decina. Non unito, ma in diagonale. Quindi anche questo diventa una bella situazione. Qui abbiamo un triangolo della stessa decina, 11-15-17, tra le ruote di Palermo-Roma. Anche questa è una bella formazione. Torino porta la cadenza 4, 34-54, che fa 88. E l'88 lo ritroviamo in isotopia su Bari. Quindi anche qui è molto bello. Venezia. Abbiamo il 34 isotopo, Torino-Venezia, 34-34. Il 6 a Venezia in terza, è molto bello. Quindi abbiamo veramente anche in questo palestrazione delle belle situazioni. Stripla cadenza 4, Torino-Venezia nazionale, che anche qui è veramente molto bella questa formazione. Quindi cari amici, ci prepariamo per l'estrazione di giovedì 30. Vediamo se arriverà qualcosa di buono. Intanto i miei metodi e le mie previsioni sono tutte in gioco, chiaramente. Poi ci prepareremo per il mese di aprile, che mi auguro possa andare decisamente meglio e ci possa essere un recupero. Conoscete ormai i miei metodi. E sapete bene che se ci sono dei negativi, poi come ci sono dei negativi, poi ci sono anche delle vincite multiple. Quindi mi raccomando ad avere sempre costanza e fiducia sia nelle previsioni sia nei metodi. Credo di aver detto tutto. Vediamo ancora se possiamo dire qualcosa. Mi sembra di no. Paga ancora il metodo Ambataturbo, un metodo che vi consiglio di acquisire in versione completa perché è una bomba assoluta. Con l'83 a Napoli in prima posizione, anche se quel metodo va nei 3-4 colpi di gioco. Ma si può continuare anche tutto il mese. Guardate, ha pagato ancora. Quindi quello è un bellissimo metodo Ambataturbo, mi raccomando. Poi dai metodi che ho dato, non vedo niente. Comunque abbiamo vinto questo mese sia Venezia Las Banco con il doppio 13, abbiamo vinto Mila Napoli. Abbiamo vinto Ambataturbo, abbiamo vinto Ambataturbo. Sono metodi che pagano ogni mese. Quindi sono metodi che potrete acquisire in versione completa anche in pacchetti promozionali che io faccio molto spesso. Potete contattarmi sempre via WhatsApp per queste informazioni. 3-4-8-7-5-4-7-7-1-5 per acquisire i miei metodi in versione completa. Come anche l'ultimo metodo, quello degli Ambo infallibili, che ha pagato il 50. Lo andiamo a rivedere sulla ruota di Napoli, vediamo se lo andiamo a beccare. Vediamo, vediamo dov'era. Ha pagato l'Ambo con il 50. Il 50.83 e il 9 di marzo. Quindi ve l'ho fatto vedere anche nel video di presentazione. Ok? Lambata zigzag ha pagato anche. Quindi avevamo il 21, Bari Napoli. Quindi sono tutti i metodi che nel mese di marzo hanno dato la vincita. Sapete che i miei metodi difficilmente vanno a sbagliare. E quando, se è quando danno il negativo, poi vanno il mese dopo a recuperare con vincite multiple. Succede sempre in questa maniera. Quindi vanno seguiti con costanza e con fiducia. Quindi mi raccomando di avere sempre in mente queste due parole del gioco dell'otto. Per adesso un saluto a tutti, Mister Sbancolotto.